Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare questo video vi invito a passare dal sito 6calcio vi ho avuto da acquistare maglie e tutta calcistica a prezzi convenienti inoltre inserendo il codice coupon FABIO riceverete il 15% di spunto vi avrete il link in descrizione queste sono le mie maglie non perdete altro tempo e passatevi dal sito grazie a tutti 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 ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti